partiamo leggerine allora dopo il licenziamento purtroppo di Mustafa Lee è stato tolto un match da NXT No Mercy però comunque al momento ci sono tre match annunciati ovvero il primo, quello che vedete a schermo, Carmelo Ace contro Ilya Dragunov Bron Breaker contro Baron Corbin e Becky contro Tiffany Stratton I tuoi pronostici Doc su questi tre match che vedremo al momento, i tre match annunciati per NXT No Mercy Allora NXT No Mercy che sarà sabato notte Allora qua devo andare secondo me qua Carmelo Ace, Ilya Dragunov è 50-50 perché è una rivincita dello scorso premium live event dove il campione era mantenuto però in maniera abbastanza controversa con l'aiuto di quello che era il suo vecchio alleato quindi in teoria essendo la rivincita potrebbe vincere Dragunov però secondo me è proprio un 50-50 perché potrebbe vincere lui però Carmelo Ace lo stanno costruendo secondo me può ancora andare avanti come campione però ripeto non riesco a decidere esattamente un vincitore perché guardando anche le puntate secondo me è un 50-50 perché Dragunov vogliono scrivere un po' una sorta di redemption per quella sconfitta però Carmelo Ace se lo vogliono proporre come dominante è vero che è campione già più o meno dalla scorsa Restylmania cioè dal premium live event in cui comitanza di Restylmania però secondo me potrebbe andare avanti ancora qualche mese come campione quindi siccome è 50-50 qua vado in base diciamo a preferenza e dico Carmelo Ace in questo match però ripeto sono indeciso è più una questione di tifo che non una questione diciamo tra virgolette tecnica Di la verità Doc è perché sai che ho la 5 di 10 di Carmelo Ace con reliquia rookie card e quindi vuoi che il valore di quella carta lì cresca di la verità Certo Poi su Becky Allora Becky contro Tiffany Stratton allora per come l'avevo pensata io cioè Tiffany Stratton avrebbe dovuto avrebbe dovuto probabilmente perdere cioè riconquistare la cintura anche perché essendo un match senza squalifiche io avrei quasi pensato cioè che la Stratton è favorita però c'è il fatto che comunque hanno fatto a loro questo angle con Tegan Nox che mi è incoraggiata da Becky Lynch e quello mi fa mi ha fatto pensare che invece potrebbe essere Becky a a trionfare a portare a casa la a portare a casa la vittoria però oggi pomeriggio comunque oggi in giornata è avvenuto un un altro fatto di cui poi parleremo successivamente in maniera più approfondita che è la firma di Jerry Cargill sulla quale WWE ha fatto ha fatto subito capire che ci sta puntando tantissimo e quindi io dico visto che è un match senza squalifiche e che vogliono e che in qualche modo possono e che quindi possono esserci delle interferenze perché non farla fare e se e se la Cargill la vogliono subito mandare al top perché non farla non fare fare un'interferenza fa perdere Becky fa perdere Becky e comincia subito una 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 rivalità con l'irlandese ecco mi è venuto in mente anche questa cosa quindi rivaluto però questa è un po' una mia è un fantabooking totale quindi io dico che secondo me Becky Lynch mantiene non l'avrei detto quando ha vinto il titolo però visto anche come hanno messo come hanno puntato come hanno messo la cosa io dico che secondo me vince Becky Lynch che tra l'altro è sempre sia a Raw che a NXT quindi non male come cosa secondo me per la federazione a livello di visibilità no e invece su Brown Breaker contro Baron Corbin Beh Brown Breaker contro Baron Corbin io qua vedo Breaker favoritissimo che Baron Corbin è un po' lì a fare da chioccia ai giovani a mettere la sua esperienza in a disposizione a disposizione per far crescere i giovani una vittoria non credo che gli serva tantissimo quindi io penso che io vedo lì abbastanza favorito Brown Breaker anzi nettamente favorito Brown Breaker che è uno che ci puntano eh ci puntano però una vittoria subito così di Brown Breaker chiuderebbe un po' questa rivalità e non puoi mandare secondo me Brown Breaker contro Carmelo Ace perché l'hai già fatta mettiamo il caso che Carmelo Ace mantenga la cintura che è quello che credo e però non puoi neanche nel caso vittoria di Brown Breaker puoi mandarlo contro contro Carmelo perché è una cosa che si è già vista e rivista quindi la mia idea era che Brown Breaker la perda la prima in modo sporchissimo ultra sporco alla Baron Corbin cioè che ne so tipo eh toglie la protezione da un angolo Brown Breaker ci va a sbattere eh Baron Corbin esegue la sua finish è l'1-2-3 che vince in modo sporco ecco però io non vedo così indietro Baron Corbin secondo me è la una prima vittoria sua per poi perdere la rivalità comunque però non la vedo così così lontana non la vedo è una possibilità però io vedo che cioè questa questa rivalità sembra quasi un riempitivo per poter poi continuare quella con Von Wagner tra Braun Breaker e Von Wagner che hanno fatto cioè che hanno messo un po' in pausa per vendere l'infortunio del appunto di Wagner quindi io vedo Braun Breaker poi impegnato con quello in quella quindi quella la vedo questa con Corbin la vedo come una paida breve di di transizione o poi magari mi sbaglio però io la vedo dici che rientra subito può essere io invece la vedo la vedo un po' più lunga poi su Becky vado con con la vittoria di Becky Lynch anche se se Brock la pensa diversamente dice per me zero chance per Becky vince Tiffany il titolo deve ritornare in NXT beh comunque Becky è presente in NXT quindi di fatto anche se ufficialmente di Raw però cosa cosa sposta questa cosa qui anzi teoricamente ha un bene che Becky sia campionessa di NXT perché porta a Raw il titolo a NXT porta a Raw cose di NXT che altrimenti non verrebbero viste e la vittoria di Tiffany di Tiffany toglierebbe questa cosa qui e c'è anche questo da tenere da tenere a mente e come dice anche tornando su Brom Breaker il fatto che c'è sempre l'inconia Stevenson che è tornato negli out show che è vero anche anche questa cosa qui che dice GG quindi bisogna bisogna vedere dove vogliono andare su queste cose qui io quello che do più per certo è questa difesa qui la difesa di Carmelo su Ilya Dragunov anche perché o vince Ilya Dragunov e poi fanno la bella delle belle in un match che ne so un ladder match o un qualcosa di sensazionale per poi ripassare la cintura Carmelo o se no per me è il vincitore Carmelo stasera cioè stasera il 30 quando faranno faranno il match su Bronson Reed su Bronson Reel su Bronson Breaker ho detto la mia secondo me va Corbin e su Becchi io vedo nettamente favorita Becchi per poi far perdere il titolo a Becchi più avanti magari una Tegan Nox che è retrocedita da NXT a proposito come la vedresti come cosa magari Tegan Nox vince lei a Raw la sera dopo la settimana prossima con l'interferenza di Tiffany magari non con l'interferenza di Tiffany però potrebbe anche starci perché secondo me se vogliono potenziare il brand di NXT e vogliono magari portare qualche spettatore in più secondo me è un cambio di titolo cioè Becchi il premium live event diciamo del main roster magari a Fastlane o a Survivor Series avrebbe sicuramente una cassa di risonanza maggiore per l'atleta di NXT che dovesse vincere questa cintura quindi non c'è neanche quindi non c'è neanche da sottovalutare questa cosa qua certo un'altra sconfitta di Tiffany Strat un po' la ridimensionerebbe però è anche vero che Shawn Michaels è anche è noto perché nella divisione femminile gestita da Shawn Michaels c'è molto ricambio c'è molta lotazione di personale sì quindi non è detto che poi Tiffany Strat veramente ci puntano perché purtroppo il limite della divisione femminile di NXT è che c'è il periodo in cui vanno a periodi c'è un periodo in cui puntano su due o tre atlete poi le mettono da parte ne provano altre cioè sembra quasi che ne abbiano tante le vogliono provare un po' tutte poi eventualmente per vedere su quale effettivamente puntare è un po' questa idea sì quindi non è cioè non è detto che siccome puntano adesso su Tiffany Strat allora poi sia lei esattamente quella designata perché tempo fa sembrava che fosse Roxanne Perez che adesso è un po' uscita è un po' messa ai margini quindi vediamo ecco anche Roxanne Perez è vero ecco mi dice anche sei d'accordo su quello che dice Vincenzo che dice se torna Stevenson e fa le prestazioni del match con Corby non so quanto possa essere utile ad NXT sei d'accordo? diciamo che Gabriel Stevenson cioè WWE ha fatto un po' di pasticci forse perché ha avuto anche qualche problema fisico che è un problema al cuore però lui non si capisce vuole fare lotta libera vuole fare i campionati del mondo di lotta libera vuole andare a Parigi alle Olimpiadi no vuole fare vuole rimanere all'NXT può andare in WWE WWE aveva addirittura draftato a Raw se non mi sbaglio però poi non ci ha fatto niente poi c'è da dire che su di luci sono purtroppo anche delle accuse mai dimostrate di violenza che l'hanno che hanno fatto sì che diventasse un bersaglio per una certa parte di internet che lo stronca un po' a prescindere diciamoci la verità a me il match di esordio non è che aveva fatto non mi era proprio dispiaciuto anzi però bisogna vedere quanto tempo ha per allenarsi e quanto lui poi voglia effettivamente fare la letter perché secondo me mi sembra un po' indeciso sul da farsi sembra parecchio parecchio confuso diciamo mettiamola così e comunque dai vediamo quello che succederà in quel di nomersi che purtroppo al momento conta solo tre match vediamo se ne inseriranno qualcuno stanotte e credo che un paio li aggiungeranno perché sono tre la vedo la vedo un po' dura la vedo 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 la vedo